Nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Cari, eccoci per i ritrovati su Sicilia 24. Parliamo di cronaca e nello specifico di Messina Denaro. Il boss Matteo Messina Denaro ha rinunciato questa mattina a comparire al processo in cui è imputato come mandante delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, che si celebra a Caltanissetta. La Corte ha comunicato che dopo la rinuncia del mandato del suo legale, Messina Denaro non ne ha nominato un altro. Pertanto è stato designato come difensore d'ufficio Calogero Montante. A rimettere il mandato era stata ieri la nipote del boss, l'avvocato Lorenza Guttadauro. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Palermo, parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti dove i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo che è stato beccato con 21 dosi di cocaina. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato un 49enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha destato i sospetti dei motociclisti dell'arma a causa della reazione avuta al loro passaggio mentre percorrevano un vicolo nella zona di Via dei Candelai. Da prima intento a parlare con altre persone, alla vista dei carabinieri si sarebbe discostato lanciando in aria un involucro e tentando subito la fuga a piedi per le stradine limitrofe. Il 49enne avrebbe anche tentato di rallentare uno dei militari lanciandogli contro una sedia ma dopo pochi passi è stato raggiunto, bloccato e perquisito. Addosso nascondeva oltre 800 euro in banconote di piccolo taglio mentre l'involucro abbandonato conteneva 21 dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai carabinieri di trovare, dentro una cassetta di sicurezza nascosta nella camera da letto, più di 11.000 euro in contanti, oltre a qualche spinello e a materiale utile per il confezionamento delle dosi di stupefacente. L'arresto del 49enne è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo che ha disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il denaro è stato posto in sequestro come verosimile provento dell'attività di spaccio mentre la droga, anch'essa sequestrata e campionata, verrà inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le opportune verifiche qualitative e quantitative. Restiamo in tema. Parliamo ancora di spaccio di sostanze stupefacenti, in questo caso di traffico di droga, con la Guardia di Finanza che a Messina ha tratto in arresto un corriere. L'uomo viaggiava in un'auto, in un minivan, con moglie al seguito, sei figli minorenni e oltre tre chili e mezzo di cocaina, ovviamente. È stato arrestato. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato circa 3.600 grammi di cocaina in transito sullo stretto, arrestando un soggetto per violazione alla normativa in materia di sostanze stupefacenti. L'attività, condotta dalle fiamme gialle del gruppo di Messina, con il prezioso ausilio delle unità cinofile, attesta la costante attenzione al contrasto dello spaccio di droghe, soprattutto ai punti di accesso alla Sicilia. In particolare, grazie al fiuto del cane antidroga Urban, altamente specializzato in operazioni della specie, durante il controllo di un minivan appena sbarcato dalla costa Calabra, con a bordo una coppia con al seguito sei figli minorenni, i finanzieri hanno rinvenuto tre panetti contenenti oltre tre chili e mezzo di cocaina, abilmente occultati in un vano naturale del mezzo ricavato tra tetto e il suo rivestimento. Lo stupefacente avrebbe potuto fruttare, sulle piazze di spaccio siciliane, oltre 700 mila euro. Sulla base delle risultanze investigative, che dovranno comunque trovare conferma in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio, e fermo restando il generale principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, l'indagato è stato tratto in arresto e in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e associato alla casa circondariale di Messina-Gazzi. L'impegno nello specifico comparto testimonia ulteriormente la rilevanza attribuita al fenomeno criminale dalle fiamme gialle messinesi e dall'autorità giudiziaria peloritana, confermando inoltre la centralità del territorio messinese, quale porta ad ingresso dello stupefacente nell'isola, nonché punto strategico per il transito e il traffico di ingenti quantità di narcotico, primaria fonte di sostentamento delle organizzazioni criminali. Parliamo di migranti, ennesimo naufragio ed ennesimo dramma in mare. C'è stato, come detto, un naufragio nel tardo pomeriggio di ieri a largo di Lampedusa e si tratta del secondo nel giro di poche ore in area SAR, con una barca di 8 metri che era salpata dalla Tunisia e poi affondata appunto nelle acque di Lampedusa. Nell'intervento di soccorso la motovedetta della Capitaneria di Porto ha salvato 20 migranti, originari di Camerun e Costa d'Avorio, purtroppo però recuperato il corpo di una giovane donna. La salma e i superstiti sono stati poi sbarcati a Lampedusa. Sempre ieri era naufragato un altro barchino. Stavolta la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza hanno tratto in arresto 38 migranti, compresi un minorenne e 11 donne. Nel giro di 24 ore sono sbarcati oltre 1.100 migranti a Lampedusa. I vari gruppi sono stati poi portati all'hotspot di Contrada in Briacola, questa struttura di prima accoglienza presente sull'isola. I migranti hanno riferito di essere salpati tutti dalla Tunisia e che le traversate non sono state facili a causa del mare molto agitato. Cambiamo decisamente argomento. A Catania si parla di frode sulle accise petrolifere, tre gli arresti effettuati dalla Guardia di Finanza, finanzieri che hanno sequestrato anche 53.000 litri di carburante, carburante che era stato allungato con oli esausti. Tre persone sono state arrestate e poste ai domiciliari dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania, poiché ritenute responsabili di sottrazione fraudolenta all'accertamento o al pagamento delle accise sugli oli minerali. Nei loro confronti, le Piamme Gialle, su delega della Procuretnea, hanno eseguito un'ordinanza del GIP. L'indagine è stata condotta dalle unità specializzate del gruppo Tutela Finanza Pubblica del nucleo PEF di Catania della Guardia di Finanza, con la collaborazione di funzionari dell'ufficio antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Palermo. L'inchiesta ha preso origine da un controllo sulla qualità del prodotto petrolifero scaricato in un distributore stradale della provincia etnea, che è risultato avere un altissimo contenuto di zolfo. I successivi approfondimenti investigativi avrebbero permesso di ricostruire il meccanismo di frode che sarebbe stato attuato dagli indagati Giuseppe Adornetto, di 36 anni, Vincenzo Salvatore Adornetto, di 64, e Claudio Iacono, di 66 anni. Secondo l'accusa, gli Adornetto, a vario titolo, amministratori e legali rappresentanti di due società di autotrasporto con sede nella zona industriale di Catania, con l'ausilio di Iacono, già dipendente di una delle società con mansioni di autista, avrebbero sfruttato i trasporti di prodotti energetici eseguiti per conto di ignari committenti per prelevare di volta in volta dalle autobotti migliaia di litri di carburante, sostituendoli con analoghi quantitativi di oli esausti di scarsa qualità. Il carburante prelevato dagli indagati sarebbe stato successivamente destinato sia al rifornimento degli automezzi aziendali sia alla vendita abusiva al dettaglio a privati con una stazione di servizio abusiva. A conclusione delle indagini, sono state deferite alla procura di Catania cinque persone e sequestrati circa 53 mila litri di carburante miscelato, 5 mila litri di oli lubrificanti esausti, due autocisterne e l'apparecchiatura per l'erogazione clandestina del prodotto. Parliamo adesso della Polfer, ovvero la polizia ferroviaria. Andiamo a vedere il bilancio delle attività svolte proprio dalla Polfer in Sicilia, nelle stazioni siciliane, nello scorso mese di febbraio. Vediamo il servizio. 12.309 persone controllate, 12 indagati, 400 treni presenziati, 210 veicoli spezionati, 65 contravvenzioni elevate e 1.303 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria. E questo è il bilancio delle principali attività di controllo effettuate dalla Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia lo scorso mese di febbraio. I poliziotti della specialità, oltre alle consuete attività di istituto, sono stati impegnati in quattro giornate dedicate ai controlli straordinari predisposti dal servizio Polizia Ferroviaria su tutto il territorio nazionale, inerenti le operazioni Oro Rosso, finalizzata al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario, stazioni sicure, con l'obiettivo di incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e Rail Safe Day, per contrastare i comportamenti scorretti sempre in ambito ferroviario, che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti. La Polfer ha svolto ulteriori controlli a Catania, unitamente alla Polizia Municipale e al reparto cinofili della locale Questura, per combattere il degrado e restituire decoro all'area circostante alla stazione. Controlli che hanno portato a elevare sanzioni per circa 20 mila euro per irregolarità nelle licenze di alcuni esercenti e verbali per violazioni al codice della strada. Su tutto il territorio della Sicilia sono stati rintracciati cinque minori, di cui due a Catania, due a Palermo e uno a Messina, tutti riaffidati alle rispettive comunità da cui si erano precedentemente allontanati. I controlli sul territorio sono stati affiancati costantemente dall'attività di educazione, alla legalità e alla sicurezza ferroviaria, che ha consentito agli agenti della Polfer di Taormina, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo di svolgere incontri formativi nelle scuole di ogni ordine e grado, raggiungendo oltre 1.200 studenti nell'ambito dei progetti Train to be Cool, Pretendiamo Legalità e Incroci. Quest'ultimo progetto ha fatto il suo debutto proprio nel mese di febbraio, suscitando subito grande interesse nel mondo scolastico per l'interdisciplinarità dei temi trattati riguardanti il viaggio sulla rete, sul mezzo ferroviario e su strada. Diverse le richieste di assistenza giunte alla sala operativa della Polfer da parte di viaggiatori distratti per il recupero di effetti personali dimenticati a bordo treno, in stazione e sui traghetti operanti nello stretto di Messina. In particolare, a Catania gli agenti hanno recuperato e restituito a turisti di diversa nazionalità dei dipinti, circa 1.000 euro in contanti, documenti e una macchina fotografica. Spazio al Covid. Come ogni settimana, la regione siciliana ha diramato il consueto bollettino per fare il punto della situazione. Un bollettino, come sempre, ormai settimanale. Arrivano conferme sui dati in Sicilia, nell'isola, sono infatti in costante e netto calo ai nuovi contagi e calano anche le ospedalizzazioni. Ma tutti i dettagli li vediamo nel bollettino Covid. Infezioni da Covid in netto decremento in Sicilia, in linea con la tendenza nazionale. Nella settimana, dal 27 febbraio al 5 marzo, nell'isola sono stati rilevati, attraverso i test antigenici e molecolari, 1.200 nuovi positivi, il 13,61% in meno rispetto ai sette giorni precedenti. L'incidenza media è di 25 casi per 100.000 abitanti. I tassi più elevati si sono registrati solo nelle province di Agrigento, Trapani e Palermo. Le fasce d'età maggiormente a rischio sono quelle tra gli 80 e gli 89 anni, tra i 70 e i 79 anni e gli over 90. I dati sono riportati nell'ultimo bollettino settimanale a cura del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana. Le nuove ospedalizzazioni sono in diminuzione, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di ricoverati con concomitante positività da Covid. Più della metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risulta non vaccinata. Per quanto riguarda i vaccini, i dati sono aggiornati al 7 marzo. Nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 23,29% del target regionale, mentre 61.708 bambini, pari al 20,02%, hanno completato il ciclo primario di vaccinazione. Nel target over 12 anni, i soggetti che hanno ricevuto almeno una dose sono il 91%, l'89,62% ha completato il ciclo primario, mentre il 9% è ancora da vaccinare. I cittadini che non hanno effettuato la terza dose, pur avendo maturato il diritto a riceverla, sono ancora 1.120.656. I vaccinati con dose aggiuntiva booster sono 2.774.016, pari al 71,23% degli aventi diritto, incluso il target 5-11 anni. Le somministrazioni di quarta dose sono 242.836, delle quali 213.604 ha soggetti over 60. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 9.872. Per il momento è tutto, chiudiamo questo appuntamento con Spazio Notizia, ma ci ritroviamo più tardi, ovviamente, su Sicilia 24. A dopo. Notizia Notizia